Marco Aurelio Marco Aurelio, 121 d.C. 180 Imperatore, filosofo e scrittore romano Nei colloqui con se stesso, dice Chi pecca, pecca contro se stesso, rendendosi da sé malvagio. Si è spesso ingiusti, non solo per azione, ma anche per omissione. Commento Forse il sentire che noi conosciamo come Marco Aurelio, che è giunto ad avere queste intuizioni, non ha avuto più bisogno di reincarnarsi nella condizione umana.